Un risultato importante per lo sport di Capodorlando, finalmente si torna a giocare al Pissi. Dopo cinque anni finalmente l'Orlandina Calcio torna a giocare in questo stadio, nel suo stadio. Noi siamo molto soddisfatti di essere riusciti a mantenere la nostra parola. Voglio ringraziare chiaramente Samuele Drago e Piero Galipò, che sono le persone che materialmente stanno portando avanti questi lavori, e chiaramente l'assessore allo Sport Miracola. Che tipi di lavori sono stati fatti per far sì che ci sia l'agibilità nel campo? Abbiamo ripristinato gli spogliatoi, i bagni del pubblico, l'accesso allo stadio perché era difficoltoso dopo quattro anni di abbandono. In questo momento stanno spazzolando il campo con il trattore per cercare di rialzare il pelo dell'erba. Abbiamo ripristinato l'impianto di illuminazione che non funzionava, l'impianto di irrigazione, le panchine che erano distrutte e le porte. E sabato però non ci sarà il pubblico? Ancora non siamo riusciti nell'iter burocratico a riaprire al pubblico lo stadio per gli eventi, ma contiamo di farlo per la partita successiva. Questa sarà ancora a porte chiuse. Quindi uno stadio che torna finalmente alla frizione di Capodorlando, ma non solo? Chiaramente lo stadio sarà aperto a chiunque ne abbia necessità, a qualsiasi società sportiva. Intanto è funzionante al 100% e non solamente in parte. Grazie. Grazie.